Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda. Questa è la sedicesima settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile. Ho deciso di decorarla a tema gallinelle. Ho utilizzato questi due paper tape principali che avevo preso da Tiger insieme agli stickers l'anno scorso e poi per dividere i giorni della settimana ho utilizzato un washi slim con delle uova. Poi per scrivere i giorni della settimana ho utilizzato una semplicissima stabilo rossa. Scusate se vi faccio venire il mal di mare ma purtroppo come dicevo la scorsa settimana mi si sono rotti entrambi i cavalletti che mi servivano appunto per registrare i video e quindi sto facendo a mano libera. Cerco di stare il più fermo possibile ma non mi rimane molto facile, ci sto provando. Comunque oggi è lunedì 13, quindi buona Pasquetta a tutti. E niente, la decorazione è molto semplice però devo dire che tutto sommato mi piace parecchio. E niente, penso di aver detto tutto, sì auguri ve lo fatti. Che altro dire? Se la decorazione vi è piaciuta vi invito come sempre a lasciarmi un bel pollicione in zoom, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina così che vi arriva la notifica dei miei prossimi video quando li pubblicherò. Se volete lasciarmi un commento che mi fate sapere se vi è piaciuta mi farebbe un enorme piacere. Vi lascerò come sempre qua giù in basso nell'info box del mio account Instagram se mi volete seguire. Penso di aver detto tutto, sì. E spero di avervi fatto un po' di compagnia in questo periodo così difficile. Un bacione grande grande e ciao al prossimo video. Ciao!